campagna di santa maria in baro e qui vediamo un esempio veramente spettacolare un impianto che ha esattamente un anno questo è stato piantato ottobre dell'anno scorso un piante di arbechina e siamo qui con il titolare dell'impianto signor egno che ci spiegherà un attimo come diciamo ha fatto ottenere un risultato così spettacolare queste piante soltanto di un anno e questo è un piante che l'anno prossimo daranno una produzione vero signor egno che distanze abbiamo usato qui abbiamo una pianta di un metro e tra la fila e l'altra fila di 3,70 metri quindi 3,70 per un metro le piante sono veramente bellissime qui dicevamo che adesso come inizio di potatura quindi fino adesso sono state lasciate libere soltanto tolte la pulitura di sotto si sono i rami di pedale a base si quest'anno diciamo l'anno prossimo a febbraio passerò a tagliare la cimatura laterale di questi rametti laterali in modo che la pianta comincia a fare l'impoltimento interno questa operazione la fai a macchina quindi faccio così con una potatrice passerò sia sopra dove prenderà alcuni a cima sia laterale sopra che altezza ci mettiamo diciamo circa due metri e dieci di altezza la cimatura sì ok quindi questa e questa darà se succederà come nell'altro impianto quindi sì che previsione potremmo fare di produzione per ettaro diciamo a una pianta così qui dal secondo anno potrebbe fare 50 quintali ad ettaro questo è veramente un impianto molto bello e qui anche vediamo che questo impianto fatto nel periodo autunnale ha dato dei risultati molto migliori dell'impianto gemello invece fatto in primavera ecco adesso siamo a novembre 2020 quindi esattamente un anno di differenza costante quasi 12 mesi l'anno complimenti veramente